Ordine di arresto per Fabrizio Piscitelli, uno dei leader della tifoseria della Lazio, ma anche capo di una organizzazione di trafficanti di droga, 47 anni ancora ricercato, nell'ambito di un'operazione della GDF che ha portato all'esecuzione di altri sei mandati di arresto. Alcune delle persone arrestate sono collegate alla noto boss Michele Senese. L'indagine riguarda il traffico, lo spaccio di droga nella capitale, 500 kg di hashish sequestrati che avrebbero fruttato sul mercato al consumo circa 5 milioni di euro. Nell'ambito degli accertamenti è emerso che Piscitelli assieme agli altri arrestati avevano organizzato e promosso l'importazione di 185 kg di hashish sequestrati a Civitavecchia lo scorso 10 dicembre attraverso un corriere di droga di origine inglese al Mark.